Volevo ritornare un attimo su i rapporti con Berlusconi, non è per insistere, ma anche, nel senso che prima ha detto, però noi siamo contrari, contrarissimi all'immunità parlamentare, l'abbiamo fatta abolire noi, in Parlamento con una battaglia etc., questa per esempio è una cosa che Berlusconi vorrebbe rintrodurre in qualche modo, come per esempio è contrario a la reintroduzione invece del falso bilancio, per fare degli esempi che concernono questo argomento qui, della legalità e della giustizia, come si fa quindi ad andare insieme? Tra l'altro la vostra coalizione ha come capo Berlusconi, però non è candidato premier, non è proprio in questa sistemazione che voi avete trovato, che si legge una contraddizione nei rapporti appunto che avete con il PDL e il Consiglio Berlusconi, che è capo e non è capo, che è capo di una coalizione, però non sarà il Presidente del Consiglio perché il vostro è Tremonti, insomma è una coalizione che sembra un po' faticare o no? No, è l'apparenza, noi siamo legati a questo programma con punti molto precisi, istituzioni di dimezzamento dei costi della politica per un'Italia federale nord-centro-sud protagonisti, famiglia, riforma fiscale, banche, imprese etc., è un programma di legislatura, realizzare tutti questi punti cambia l'Italia e ci vuole una legislatura. Poi come ho detto ci sono cose fuori dal programma che ciascuno può pensare di realizzare in Parlamento, non nell'azione di governo, sono due cose distinte, la macro regione c'è, è uno dei punti del programma, entro la fine della legislatura, istituzione di macro regioni attraverso le intese di cui è nel programma di governo la macro regione, quindi è condiviso e io faccio le cose che sono condivise nel programma di governo, poi ci sono tante altre cose che si possono fare, questa della modifica del 68 della Costituzione sull'immunità non è una cosa che compete al governo, compete al Parlamento, il Parlamento si troverà una maggioranza, può darsi, non ci sarà la Lega, ma non siamo vincolati a questo dalla coalizione di governo. Però sono temi forti della campagna elettorale. Sì certo, ma io non vedo nessuna contraddizione, se non avessimo opinioni diverse saremmo un unico partito, la Lega è un partito che ha le sue opinioni su queste cose, il PDL ce le ha in modo diverso, la stessa cosa c'è nella compagine di centrosinistra, perché Bersani e Vendola sono d'accordo, uno ha detto facciamo l'accordo con Monti e Vendola l'ha subito stoppato, mai l'accordo con Monti e a me pare un po' più complicata la prospettiva di chi dice accordo sì, accordo no, piuttosto di chi come noi ha opinioni diverse su cose che sono fuori dal programma, proprio perché abbiamo opinioni diverse sono fuori dal programma. L'ultima cosa sulla candidatura premier, la legge prevede il capo della coalizione, il premier l'incarico lo dà il Presidente della Repubblica e noi per rispetto di questo diciamo e per scaramanzia, prima vinciamo le elezioni e poi indicheremo… Poi chi si dà a un tavolo e ragioneremo… Poi indicheremo…